Lunedì intenso per i vigili del fuoco provinciali che sono intervenuti all'alba nella zona industriale di Cartoceto per un principio di incendio che ha interessato una stazione filtrante in una ditta di lavorazione metalli. Le squadre dei vigili del fuoco partite dalle sede di Pesorefano hanno spento le fiamme e raffreddato i macchinari mettendo in sicurezza l'area e per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Alle 8.30 è invece arrivata la chiamata per un incendio nell'area maneggio Zorigo di Villa Ceccolini. A prendere fuoco è stata la copertura di una stalla mentre il proprietario stava stendendo fogli di catrame per chiudere un buco. I cavalli della struttura sono stati subito messi in salvo in quanto recintati in un'altra area. A prendere fuoco è stata una intercapedine con componenti in polistirolo ma l'intervento repentino dei pompieri ha contenuto i danni alla struttura. Vigili del fuoco che invece domenica mattina sono intervenuti in pieno lungomare a Gabic per una caduta calcinacce registrati in uno stabile abbandonato in piena zona di passeggio turistico del litorale. Le verifiche sull'edificio di concerto con la polizia locale hanno portato a transennare per motivi di sicurezza l'area inagibile compresa fra via Ricordi, via Vittorio Veneto e lungomare Cristoforo Colombo.